Ragazzi questa partita ve la lascio uncut E' una partita vinta La prima partita vinta è in live La prima che abbiamo fatto in live Non la prima vinta Molto carina, ve la lascio proprio uncut E niente, spero che vi piaccia Iscrivetevi al canale Al raggiungimento nei 50 iscritti Farò un contest dove Regalerò 4 4 degli starter pack Perché se così si possono chiamare E niente Spero che vi piaccia Bella Ma se mi sto concentrando un botto Che è fuori da Pinnacolo C'è da Bisunto Bella Ferrari Ma si ma che palle Siamo in 2 Che scarso è Come hai fatto Come hai fatto Vuoi sapere No No Mi ha Mi ha Push 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 Dal dietro Mentre stavo Prendo la faccia Prendendo il mio loot Devo capire dove è quello a terra intanto Per dirvi Prendendo il mio loot E' un'occasione Si una domanda Io sto messo malissimo Io ho una R Ok Una terra Spera non chillarlo Non chillarlo Oh l'ho eliminato con revolver No No Scusami ma Mi sono incazzato Un pochettino E devo Li ho battuti tutti Sei a una quindi Quindi Dov'è quello a terra E dov'è il tuo loot Ferrari E' sopra Sopra Ah ok Nicola dimmi se trovi loot Perché quello che ho mandato a terra Non si sa dov'era Ma non potrà essere lontano Beh C'hai ragione anche te Però Magari Si è allontanato un pochettino E quindi non si trova più Beh Ha Ha avuto due secondi Può scappare No No Ne avuti Ne avuti L'avevo già messo a terra Prima Secondo me qua sotto Ah beh Per me qua sotto Io sono arrivato che Lui è terzo Stai praticamente già per faltare No Ah eccolo dietro il gespuglietto Ah La botta di vita Mi ha dato sto vita Quanti colpi per la R? 186 Io me ne dai un po' Che è tipo 50 Non c'ho voglia di tenerle Guarda questa è una bomba topissima La piazzi qua dietro E apri la porta E top Hai fatto esplodere in mezzo a casa Eh lo so Però amico La pescheria l'hai già lutata Ho lutato tutto Hai proiettivi del pompa Mi ho 23 Ah ok Beh li ho appena trovati Vieni che andiamo Non ha lutato Andiamo via Come la pescheria C'è una tassa Ah ok No perché stavo andando aiutare Ferrari Luta lì e poi vieni subito Che andiamo un po' Intanto prendo un po' di legno Ah ma tu sei già là? Sì ho Ma che senza aver rotto niente Ho Ho il 200 di legno Eh ci credo hai lutato Cioè hai lutato dai cadaveri Beh è solo Solo quello che ho ucciso L'ho lutato Eh gli ho lutato dall'unico Che non aveva niente L'altro non aveva C'era uno che aveva solo il pompa E basta Cioè tipo Mi stava sparando un altro Io mi giro Vedo che stava arrivando Mi fermo e gli sparo in testa Allora Oh Però volevo Stavano passare per Pinnacle Ogni volta che ci andiamo Moriamo Ok Possiamo Verso la montagna Cioè non voglio dire C'è che perché Però Beh c'è ragione In realtà Però Se chigliamo quelli di Pinnacle E vinta la partita Se non li chigliamo È un problema Spera non le voglio lasciare Quelle grenade Prego Fa che io in questa cassa Trovi Devi ballarci Sulla cassa Come? Eh Era Ma che cazzo Io la vista è chiusa Prima come sono arrivata Da qui dietro ci viene Che è tipo chiusa Sembra No Ok Hai perso vita? No No Non ce ne sono Eh dobbiamo passarti Per Pinnacle Per forza Dobbiamo correre però Oh C4 No niente Pensavo Avessi visto qualcuno Vai andiamo Corriamo dritti per dritti Infermiamoci Qui hanno già spaccato Sì Magari hanno lasciato uno scar Non so perché Qui lasciano sempre la cassa Non so perché Guarda Ok stavolta Qui c'è una cassa Nicola cosa sei Vabbè Io sto lutando ancora Pinnacle Che Cioè La maggior parte di Pinnacle Non l'ho lutata Hai costruito Tra le scale Sì Cassa con dentro Ah ampolla 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 Che ti vieni subito a prendere E Oh occhio Stanno costruendo a A sud Sono lontani o vicini? Eh lontani Sulla collina Ah ok buono Andiamoci Allora Vieni su Prenditi l'ampolla Dove eri? Qua Basta che salzi Basta che Fai così Arriva Arrivano Stanno salendo Merda Vieni Sono qua? Eh No Non dove No vabbè Dal campanile Che cani però E uno là Ah perché Team è vero Me l'hanno Dimenticato Che era team Arriva uno Ci pusha Il cato Cerca di no Due a terra Corri via Eh due Corri Sono ancora due Sono ancora due Quelli lì Quindi Se ci arrivano addosso Siamo due V2 Che pipe Sono sti qui Non lo so Io Cioè Ha fatto una doppia scala Quello là Per non farsi colpire Salta Io lo headshot Non so come Senza neanche vederlo Lo headshot Scende Nel mentre che scende Da terra E arriva il compagno Che inizia a curarlo Lo sente Vado giù E lo kill Qui sono passati Qui c'è ninja Che fight Stanno costruendo Eh ma i bende Guardala safe Io li evito Io li evito È vero È vero È vero Evita lì Non mi ha visto Non mi ha visto Cerca di non morire Non mi ha visto Infatti me ne sto andando Nicola Hai i bende Per piacere Ho due medikid Buonissima Eh io invece Mi devo usare Le granate a impulso Buonissimo Ti ho raggiunto Con le granate a impulso Adesso arrivano Sia quelli di pinnacoli Che quelli che stavano Fightando là Quindi ci facciamo Io ho Io ho Ti voglio fare un fortino Sì Vieni qui sopra Che facciamo un fortino Piccolo Lo facciamo Asieme o No Separato Ah ok Aspetta che esco Vieni su E passami il medikit Linfon Oh Esce uno dalla safe Una terra Due morti Bella Le ho chillate il team Dopo andiamo a lottare Prima mi devi dare il kit Grazie Ti voglio bene Dov'è il kit? Ah lascia giù Lascia giù Andiamo Sono un idiota Me lo dovevo fare Va bene Vai a lottare Lasciami un po' di loot Che non sono messo Così top Lasciami soprattutto munizioni E legno Ma questo non è tutto Ah infatti Un pochettino è safe Cosa c'è di buono Mattone Che ho preso Qua c'è un sacco di roba La prendo io questa Tu Prendi la Ah ok Vai io vado verso la safe Intanto Io mi prendo Un altro pompa Scialla Legno Perfetto Ah per te che prendi Le cildini Eh no Ne ho dieci Ne ho dieci E io ne ho quattro Ah ok Vabbè tienili se puoi E lasciali giù Quando trovi tipo Dei kit O qualcosa Allora Servirebbe un cecchino Eh Sì Infatti Di sopra c'è un fortino Che Anche grande Tra l'altro Dove stanno costruendo dentro Non grandissimo Sì ho visto Cioè è piccolo Ma grande Cioè Di solito Quella lì è considerato Piccolo Però Ah li stanno pushando È una roba buona Questa E qui dentro Mi sa che c'è una Io sto messo a fare E se che mi raccordo Sono messo a mano a Martegliani Eh Io 640 Hai basta Io ho 300 120 E due 150 E basta Vabbè dai almeno Hai qualcosa Vabbè dai almeno Abbiamo per curarci Vieni Abbiamo per curarci Con i mini scudini Perfetto Almeno quello Unica roba buona Quante chi hai te? Io 6 Vieni che piano piano Saliamo Che adesso questi Si stanno pushando Cioè si stanno Si siano tramortiti No però Io non voglio dire una cosa Cioè So che ogni volta che Facciamo di fare qualcosa Poi neanche Perché dopo Vabbè però Nel senso Cioè Poi finiamo che siamo Finisce che siamo Due team contro È fatti una roba così Che ce l'abbiamo A destra A destra A destra Scendi dalla montagna Scendi dalla montagna Scendi dalla montagna Andiamo giù Eravamo pacifisti E adesso è meglio Che scendi dalla montagna Che proprio ce l'andiamo Te lo dico Vattene via Proprio Il problema Facciamo il giro Da questa scala Che almeno Abbiamo un team Più basso di noi E un team Che fighta Quindi Io stavo Spendendo di dire Che Perché noi E lo so E ogni volta Che era finisce così Quando si fighta Un di più Adesso invece non più Adesso siamo Al lato Cioè Ci sono due team Che si fighta E non li sa indietro Quindi Una è appena morta Perché stava scendendo Stava scendendo Un lutto Alla montagna Sì ma quello è l'altro team Appena morto Ce ne abbiamo qua davanti Si è incontro Mi ha visto Mi stava sparando Cioè mi stava per sparare Hanno poca vita No mi ha fatto cadere Una terra Sparare E' morto E' morto E' morto Uno di vita Lo iti è morto Bella Una Senta 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 Senta